Bienvenuti a Bebel, Arkansas. Mi chiamo Katie. Sono una studentessa all'Università di Arkansas. Parlo di una organizzazione universitaria. Si chiama Sororities. La vita del membro della sorority non è scandalosa e drammatica come i film. Anche la vita del membro è diversa da un'università all'altra. La vita del membro della sorority è occupata e divertente. Questi ragazzi sono simpatici, intelligenti e dedicati. Il reclutamento è il processo per partecipare in una sorority. Dopo il reclutamento, il membro imparà il segreto della sorority. Poi ogni settimana va a una riunione che si chiama chapter. Ogni membro deve completare le ore del servizio comunità. È importante per il sistema greco che le persone siano impegnate in filantropia. Spesso la sorority fa un regalo all'università come questo anfiteatro. Una o due volte al mese la sorority ha un'festa con altre fraternities e sororities. Si chiama una funzione. Le funzioni hanno temi, per esempio, il safario nattico. In più di feste e filantropie, la sorority aggiunta la sororità. I membri spesso mangiano, escono, viaggiano e abitano insieme. I membri guardano il football americano insieme. È importante che il membro della sorority abbia buoni volti. Il membro deve completare le ore di studio e mantenere dei volti superfici. Ogni mese, le ragazze partecipano a una riunione rituale. La riunione rituale è quando le ragazze usano i segreti. I segreti sono gli stessi in tutti i sorority attraverso gli Stati Uniti. Il sistema greco è un ottimo modo per impegnarsi e per conoscere nuove persone mentre si frequenta la università.